Musica Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo vlog Oggi ragazzi su questo vlog vi volevo dire un paio di cosette nuove Che ci sono in questo momento diciamo che stanno per accadere in questo canale Allora tanto vi volevo dire che questa settimana qua è stata una prova Ora martedì non sono riuscito a caricare il video perché non me l'ero preparato e me l'ero scordato Però insomma sta cosa si può tranquillamente fare Però insomma continuare a fare questi tre video due vlog cioè tre video due live e un vlog si può tranquillamente fare Però il vlog diciamo che lo metto diciamo che non lo metto tutti i sabati Ma lo metterò soltanto quando più o meno è possibile Cioè nel senso quando ho da dire un qualcosa di importante Cioè ora al momento lo sto facendo perché dovevo dirvi questo Quindi sono cose importanti quindi sto facendo questo vlog E comunque sto pensando ragazzi di fare una scrivania nuova Ebbene sì voglio tentare di fare questo passo avanti Che già vi avevo detto nello scorso vlog insomma E adesso l'ho presa un po' più in considerazione Quindi è molto ma molto sicuro che faccia la postazione nuova Quindi non so se usciranno video sul montaggio e poi sulla fine Che poi andrò anche a pulire il computer, i monitor, tutto pulirò Quindi insomma non so quando però dovrà uscire poi questo video Poi andrò a comprare poi anche forse un sostegno per tutti e due i monitor Quindi vi farò vedere anche quello perché poi dovrò montarli in qualche modo Quindi vedremo Comunque però passando oltre Poi per quanto riguarda lunedì regà Lunedì uscirà regà il video di Call of Duty WW2 l'open beta Mi è stato detto ovviamente da Anonymous che c'era l'open beta E l'ho preso tipo, cioè l'ho scaricato tipo subito Instagram Quindi io spero vivamente che poi vi piaccia Perché voglio, voglio, ho intenzione ma non lo so Ho intenzione insomma di prenderlo Ma non lo so, quindi non tartassatemi gli zebedei Quindi mi raccomando regà Lasciate tantissimi commenti, tantissimi like e iscrivetevi Noi comunque ci vediamo al prossimo video Ciao regà Ciao regà Ciao regà Ciao regà Ciao regà